NEA 2000 è la rete e il protocollo di comunicazione che usano i device e i nostri strumenti per scambiarsi i dati. Normalmente in barca si ha un solo strumento, però se ne abbiamo due o se questo strumento deve essere collegato ad alcuni accessori, come può essere un motore fuori bordo, un motore entro bordo per avere i dati del motore, oppure un sensore per esempio sui serbatoi dell'acqua o del carburante o un'antenna gps montata sul tetto o anche perché no sulle barche a vela, sensori vento, bisogna costruire una rete NEA 2000. Oggi come oggi si è molto semplificato il tutto perché una volta, prima del 1999, quando fu creato, diciamo, questo protocollo di comunicazione, si usava l'amnea 183, che era molto più complicata perché aveva un sacco di problemi nello scambio dati. Però a noi questo non interessa, cerchiamo di rimanere veramente in una situazione molto semplice e comprensibile per tutti. Dopo, se qualcuno avrà bisogno di dati più specifici, mi faccia pure le domande all'interno dei commenti che trovate sotto al video. NEA 2000, dicevamo, è conosciuta anche come NEA 2K, il K sta per 1000 appunto, o N2K, N sta per NEA. E' un protocollo che è andato a soppiantare la vecchia 183, che possiamo vedere qui. Ecco, per esempio, nella FUR1, l'FCV 585, 587, anche 588, non ha una porta AMNEA 2000 e usa ancora il protocollo di comunicazione AMNEA 183. E si può comunque collegare con, per esempio, un chart plotter, in questo caso abbiamo messo un 1971, ma anche le serie prima, proprio tramite questi fili, che sono quattro, sono due fili che danno l'input e due che prendono l'output, e in pratica, e si collegano direttamente gli apparati. Nell'AMNEA 2000 si utilizza un altro sistema di collegamento, che non è più diretto, diciamo, tra ciascun device e il nostro apparato, ma bensì sfrutta un sistema di questo tipo. Allora, qui possiamo andare a vedere. Abbiamo dei connettori AT, che sono questi, che tra l'altro dopo vi mostrerò. Qui ne abbiamo 5. Su questi connettori AT si può interconnettere, diciamo, una dorsale, che può essere di una misura massima di 200 metri nel totale, quindi possono essere anche, non so, quattro pezzi da 50 metri, piuttosto che due pezzi da 100. Abbiamo appunto i connettori AT, abbiamo questo tipo di connettori sui cavi, che sono maschio o femmina. Adesso ve li mostro nel dettaglio. I connettori AT sono per esempio questi. Questi sono dell'ActiSense. Come vedete sono composti da, aspettate un attimo che se mi prende gli occhi non vedete più, da due femmine e un maschio. Ok, a 5 pin cada uno. Questi connettori vanno montati in questo modo qui. Vanno inseriti e stretta la vite, che contiene un OR, per renderli stagni, i collegamenti. Ovviamente si possono mettere in serie più connettori. La rete rimane stabile fino a 50 device, cosa che sicuramente voi magari non avrete bisogno di raggiungere, però ne potete mettere quindi un certo numero. Bisogna stare attenti però a un'altra cosa. Questa rete viene alimentata e l'alimentatore ha una certa portata. Quindi se io vado a connettere tanti device, devo sempre stare attento che il consumo totale della rete non superi la quantità di energia che riesco a immettere sulla rete. Ed è terminata sia dalla batteria, dai 12 volt che devo collegare al mio impianto, ma anche dalla lunghezza dei cavi. Ma questo parleremo adesso tra un po' meglio. Allora, dicevamo, ci sono i T, dopodiché ci sono i cavi, che per intendersi sono tipo questo. Come vedete, da un lato di nuovo abbiamo i 5 pin, sono identici al T, e dall'altro abbiamo il connettore femmina, sempre a 5 pin. I cavi quindi si possono connettere sui nostri T essenzialmente o da una parte maschio o se voglio connetterli dall'altro ecco qua. Questo è il maschio e posso connetterlo sia sopra che lateralmente. ovviamente è molto importante decidere quale sarà il connettore che andiamo a utilizzare perché i connettori che stanno in base alla T sono tutti i connettori del backbone, si chiama, cioè in pratica la linea principale, la dorsale dove io vado a collegare tutte le T. Queste invece si chiamano drop e servono per collegare i device al backbone. È fondamentale sapere questo perché la lunghezza massima delle drop non deve superare i 6 metri mentre la dorsale come abbiamo visto prima la somma di tutti i pezzi non deve superare i 200 metri. Quindi io utilizzo questi elementi per prelevare il segnale della dorsale e arrivare ai vari strumenti. È chiaro che se io ho tanti device in plancia vediamo di nuovo il nostro disegno eccoci qua allora qua abbiamo un chart plotter mi sposto un po' ecco qui abbiamo un chart plotter in questo caso un furuno ma potrebbe essere tranquillamente anche Garmin Lowrance qui abbiamo lo schermo del più automatico qua tutto a destra abbiamo il black box del pilota automatico in alto un'antenna satellitare potrebbe essere un GPS per esempio e questi sono tutti i T che vanno a collegare i vari apparati come vedete tra un T e l'altro posso inserire la dorsale la dorsale in pratica è lo stesso cavo che vado ad utilizzare anche per i drop a meno che non abbia da fare delle linee particolarmente lunghe dove si usano dorsali con i cavi all'interno più spessi questo è un motivo diciamo di attenzione ma sugli impianti sulle barche normali diciamo che questo tipo di attenzione non è necessario considerate che la rete va sempre alimentata e si utilizzano dei cavi specifici che finiscono con semplicemente il cavo negativo la massa e il cavo positivo allora qui devo fare la prima precisazione noi dobbiamo stare attenti sui nostri strumenti l'ecoscandaglio in particolare di non avere disturbi un motivo di disturbo elettrico può viaggiare anche sul negativo quindi io consiglio sempre di mettere sull'impianto un alimentatore stabilizzato un convertitore DC 12-12 volt troverete nella descrizione il link eventualmente se vi interessa andare a vedere il modello o acquistarlo e questo alimentatore separa completamente le masse quindi devo stare attento che anche tutte le masse della mia rete Menea 2000 non vadano a contatto con la massa comune del motore piuttosto che altri apparati come le pompe di sentina la pompa delle vasche del vivo eccetera quindi io tengo sempre tutto separato qui per semplificare ho mostrato semplicemente un collegamento di un cavo alimentazione che deve essere sempre munito di un fusibile direttamente dall'alimentazione della barca cioè una batteria torniamo ancora un attimo indietro allora un'altra cosa importantissima degli impianti Menea 2000 è finire la rete con due terminatori sono due terminatori da 60 ohm uno è maschio e uno è femmina a seconda della parte della T dove devono essere applicati ma bisogna sempre metterli non si può finire con un device io non potevo collegare mettiamo questa antenna direttamente qui al posto dell'uscita del terminatore non avrebbe funzionato la rete perché sarebbe stata sbilanciata e quindi i dati non riuscivano a passare nel modo corretto tra un device e l'altro quindi quando voi volete costruire la vostra rete Menea dovete tenere presente fondamentalmente queste cose la prima deve essere alimentata quindi bisogna dargli 12 volt la rete se non è alimentata non funziona bisogna alimentarla con 12 volt non 24 o 6 12 devono essere bisogna mettere un certo numero di T il numero di T dipende di quanti device vogliamo inserire sulla nostra rete dobbiamo utilizzare dei cavi appositi che hanno un maschio e una femmina quindi non si può neanche sbagliare perché non si possono invertire tutti i device finiscono sempre con un attacco maschio mentre tutti i T finiscono sempre con un attacco femmina si possono allungare questi collegamenti cioè mettere più T da una parte più T dall'altra un T un T un T quindi fare reti più complesse e vanno tutte dopo questi device collegate le varie utenze l'alimentazione della rete serve per alimentare anche gli accessori se io per esempio ho un GPS una bussola satellitare come in questo caso l'alimento direttamente con il cavo di rete quindi io devo portare solo quel cavo non occorre che porto altri cavi stessa cosa per il display oltre che funzionare da da display del mio pilota automatico io lo accendo e lo alimento direttamente con l'energia adatta alla rete Mnea 2000 ovviamente la rete Mnea la potete utilizzare per esempio per visualizzare anche i dati del motore però non potete farlo direttamente cioè i motori normalmente non hanno un sheet Mnea 2000 adesso vedremo un po' meglio anche questa cosa che sono sicuro interessi a molti ecco qua un esempio mi sposto un po' un esempio di rete su una barca media mettiamola così come vedete si costruisce una linea principale la backbone appunto con tutti i drop che vanno a tutti i vari servizi come vedete e ogni drop ogni servizio viene collegato sulla rete principale tramite una T alla fine della rete bisogna sempre inserire il terminatore che è quello che abbiamo visto prima sia all'inizio che alla fine della rete se uno ha già una rete esistente in barca la 183 che è la rete storica esistono dei convertitori fatti apposta che trasformano i dati presenti sulla rete Mnea 183 in dati Mnea 2000 esistono anche dei convertitori un po' più sofisticati per esempio questo ve lo mostro eccolo qua questo fa addirittura un bypass cioè trasforma i dati Mnea 2000 in 183 e viceversa ovviamente non tutti i dati ma solo quelli che sono necessari solamente per gli strumenti con cui noi andiamo a collegarci non esiste soltanto la rete Mnea 2000 esistono delle varianti che funzionano più o meno allo stesso modo però con dei cavi e connettori diversi questi per esempio questo è C-TALK NG di Raymarine non si può collegare direttamente un device un'antenna GPS su una rete C-TALK perché i connettori sono diversi quindi bisogna comprare un cavo che ha i due connettori diversi sono cavi adattatori stessa cosa riguarda Simnet che serve per le reti Simrad anche in questo caso per collegare questa rete alla Mnea 2000 dobbiamo utilizzare un cavo specifico per aiutarvi ho messo nella descrizione tutti i link ai prodotti che sono normalmente necessari per costruire una rete semplice con più device ma senza andare a interagire tra reti diverse quindi i T i cavi esistono anche delle connessioni multiple per esempio questa ecco qua come vedete in questo caso abbiamo più porte con le due uscite se qui vogliamo attaccare per esempio tre device questo ci basta perché su uno andremo attaccare il cavo dell'alimentazione di cui trovate sempre il link in descrizione andiamo a mettere i tre cavi collegati ai tre device che può essere un'antenna GPS la rete Mnea dei motori per esempio oppure e anche il nostro multifunzione e qui andremo ad applicare o i terminatori direttamente oppure costruiamo una backbone per andare magari sul tetto o sul fly dove possiamo collegare altri strumenti in quel caso qui non va più messa ovviamente non va più messo il terminatore ma va messo alla fine del backbone che si troverà sul fly se dovete collegare il vostro motore fuori bordo per esempio potete andare a chiedere al rivenditore del vostro motore un cavo di connessione questo è per esempio un cavo per i motori fuori bordo Yamaha questo è il piccolo device che si usa per connettere i motori Suzuki questo invece è un device generico che serve per trasformare la rete J1939 che sono normalmente utilizzata nei motori diesel entro bordo sempre per dare tutti i dati disponibili sulla rete del motore anche sul nostro multifunzione quindi non so temperatura dell'acqua la pressione dell'olio il contagiri consumo del carburante possiamo andare a vedere tutto sulla pagina dedicata agli strumenti dei nostri MFD multifunction display una cosa da comunque sapere è che quando noi andiamo a collegare il nostro strumento ed eventualmente altri device al motore tutte le volte che noi gireremo la chiave d'avviamento del motore alimenteremo tramite il cavo del motore stesso la nostra rete MNEA2000 e questo può essere una cosa un po' fastidiosa perché se io nella rete per esempio ho il display dell'autopilota il display dell'autopilota si accenderà anche senza che io lo voglia oppure si accenderà comunque il GPS ecco un'ottima soluzione è interporre tra le due reti un T che fa praticamente da separatore alimentazioni quindi se io voglio accendere solo il motore e non la rete impianti con questo separatore messo sulla backbone vado a separare la corrente e quindi nel momento che giro la chiave alimento tutto quello che sta dal lato motore quindi i contagiri il contamiglia il livello dei serbatoi quando vado a accendere gli strumenti alimento quella parte della rete quindi antenna gps una una sonda attiva esistono sonde dell'airmar per esempio se non abbiamo bisogno di avere le marcature dei pesci o vedere l'ecoscandaglio sul nostro display vengono montate soprattutto sulle barche a vela e ti forniscono il dato della profondità direttamente MNEA 2000 senza dover andare a mettere un ecoscandaglio con la possibilità di vedere i pesci e tutto il resto quindi abbiamo il dato profondità direttamente nella rete MNEA 2000 oppure esistono sensori vento che danno la direzione intensità del vento vento apparente la temperatura dell'aria tutto quello che vogliamo sono sempre informazioni che vengono messe dentro nella rete MNEA 2000 e noi andando a settare il nostro MFD cioè il multifunction display andiamo a vedere quali sono i dati che ci interessano e possiamo ovviamente visualizzarli